l'altra novità viene dalla russia è il koval questo utility knife molto spartano molto semplice è un fix blade russo praticamente da caccia il modello suo è big zod mini così tradotto con caratteri latini codice 95 x 18 è il tipo 95 x 18 scusate è il tipo di acciaio è un coltello inossidabile le sue caratteristiche sono pari della easy 440 c con l'aggiunta però con una percentuale del 0 20 per cento in più di titanio ha le stesse caratteristiche del 440 cina easy e questo coltello è fruggiato a mano così il costruttore garantisce è molto molto interessante il codolo ferma la lama posteriore la finisce molto bene le finiture sono buone la manicatura in un strano legno caucasico leggermente grigio ed è un coltello molto leggero stiamo parlando con 151 grammi di cui dimensioni di sola lama 10 di totale lama di 12 tagliente 10 l'intera lunghezza e coltello e 23 quindi una alternativa un folder è un full tank molto molto bello la rifinitura specchio interessante coval ecco qui la sua marca molto bello molto semplice molto interessante e anche molto economico se voglio dire si può trovare tra gli 80 e 90 euro questo coltello anche meno questo è tutto vi saluto e alla prossima